ora faccio vedere un po' come si gioca veramente GTA facendo praticamente la scema e ammazzando un po' l'ultimo questa è una bella macchina è una bellissima macchina che adesso blocchia la strada non ti muovi ecco come si chiude una macchina GTA state guardando? così si fa la bella leggenda aspettate 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 che forse ho scoperto una missione no ehi Carl Johnson CJ come on over here son move over let him sit down asshole eh? sounds like a fucking excuse to me officer Pulaski thinks you're trying to screw with us Carl pulled up across the town got that address Pulaski and another gang banging drug pushing cock killing make sure he never leaves the neighborhood not even in a pocket ecco questo come state vedendo scoperto una missione in pratica in diretta che ancora infatti GTA lo devo completare ma Tempennì ha nascosto delle moto in una strada nel centro di Los Angeles e Los Angeles la donna da recuperare vediamo ci provo in diretta ok la freccia dice che devo salire facilmente a montagna ciao a tutti ciao a tutti ragazzi eccomi qui per concludere il video di GTA San Andreas praticamente la seconda puntata come finirà cosa farà cj riuscirà a completare la missione e a trovare la sua ipotetica ragazza bene se vi è piaciuto i miei primi due tutorial come lo credo io di GTA San Andreas fatemelo sapere qui con un commentino o con un video risposta e farò la terza puntata e vi svellerò finalmente cosa è successo a cj e se più o meno ha trovato la sua ragazza perché finalmente la missione è questa della ragazza che appunto ho scoperto quindi se ha completato la missione se ce l'ha fatta oppure no quindi fatemi sapere ciao a tutti ragazzi e amanti dei videogames